In Romania, a Bucarest e in altre città continuano le manifestazioni popolari contro la corruzione. Il Cane ha due code, un gruppo satirico che in Ungheria riesce a ridicolizzare la politica ufficiale. La regione albanese del Permet protegge con un marchio d'origine i prodotti tipici e c'è chi fa stagionare i formaggi in un bunker. Mirjana Karanovic, regista serba, con il suo film La Brava Moglie, denuncia le complicità della società nei crimini di guerra. Etnoploch, un gruppo che mischia il jazz ai tempi composti e alle sonorità dell'Europa orientale e balcanica. Ciumarocchie, besente! Ciumarocchie, besente! Sono rimasti in pochi in Piazza della Vittoria dopo due settimane di proteste oceaniche con 500.000 persone scese nelle strade di Bucharest e delle altre grandi città rumene per contestare il cosiddetto decreto salvacorrotti approvato d'urgenza dal governo guidato dal socialdemocratico grindeano che depenalizzava i reati per corruzione e abuso d'ufficio qualora l'illecito non superasse i 44.000 euro. Un colpo di spugna per parecchi politici tra cui il capo carismatico e leader del PSD, Dragnea. Noi non siamo contro i socialisti del PSD ma contro la corruzione che si è impadronita del paese dalla caduta di Ceaușescu. Da quando si è chiamato il comunismo. Abbiamo un governo che guidi la Romania in modo pulito e corretto senza che ci sia bisogno di dossier sui fenomeni di corruzione che tenga conto degli interessi del popolo. Dobbiamo conducere carrile. Questi qua sono i stessi dinosauri da 25 anni. Le stesse persone, la stessa educazione utilizzano il denaro del popolo e non fanno niente con ciò. A seguito delle proteste il governo ha prudentemente ritirato il decreto. Il ministro per la giustizia Iordache si è dimesso ed il presidente della Repubblica, il conservatore moderato ed europeista Ioannis, al fianco dei manifestanti, ha chiesto ed ottenuto dal Parlamento all'unanimità un referendum popolare sul tema della lotta alla corruzione che potrebbe tenersi già agli inizi del prossimo mese. Le proteste, se continuano ancora per una o due settimane, come è successo sinora, possono produrre una pressione insostenibile per il governo. Ecco perché il presidente ha chiesto un referendum. A prescindere da quello che sarà l'esito, la credibilità del governo è calata vistosamente e sarà curioso capire come andranno le cose tra qualche settimana. Il partito di maggioranza ha accusato l'opposizione di aver fomentato la protesta per rovesciare il risultato elettorale di dicembre. Accusi respinti al mittente. Ciò che chiediamo, spiegano dal principale partito di opposizione, il partito nazionale liberale di centrodestra, è un sistema di regole preciso ed efficiente. Solo se continua il processo democratico, la Romania potrà avere una crescita reale. Se ci saranno istituzioni pubbliche responsabili, una giustizia efficiente, una società improntata sulla legalità e il rispetto della legge. Anche l'Europa guarda con favore alla lotta alla corruzione, visti i cospicui fondi comunitari di cui la Romania sta beneficiando e grazie ai quali sta crescendo del 4% ogni anno. Secondo il redattore di Historia, rivista del gruppo editoriale De Varul, le proteste dei giorni scorsi sono state un segnale di maturità e di crescita del paese. Questo è un chiaro messaggio a favore dell'Unione Europea, perché si va verso una qualità di vita superiore, basata su riforme democratiche, sul rispetto dello Stato di diritto e sulla lotta alla corruzione. E sullo sfondo, un conflitto generazionale destinato a lasciare il segno. Sono soprattutto i giovani più arrabbiati, sono loro a chiedere al governo un cambio di rotta, che si spezzi questo filo perverso che lega il paese alla corruzione da troppo tempo, perché il nostro futuro, dicono, non è altrove, ma qui, in Romania. Il partito del cane a due code, un informale gruppo satirico politico, è stata la vera sorpresa della politica in Ungheria nel 2016. Nella loro provvisoria sede, invasa dal puzzo di umidità, il leader del partito, Gergely Kovac, ci mostra alcuni dei manifesti che hanno fatto la storia del movimento, nato 11 anni fa. Una corazzata Potjomkin, che con la forza della satira, ha convinto molti ungheriesi, il 12% a Budapest, ad annullare, nella maniera più strana, la scheda del referendum di ottobre sulle quote europee obbligatorie di ricollocamento dei migranti. Proprio durante la campagna referendaria, il partito ha costruito una contropropaganda, ridicolizzando quella del governo di Viktor Orban, che ha tappezzato il paese, con manifesti che recitavano domande come questa. Sapevi che gli attentati di Parigi sono stati compiuti da emigrati? Il partito del cane a due code ha risposto così. Sapevi che c'è una guerra in Siria? Oppure, sapevi che un albero potrebbe caderti sulla testa? O ancora, sapevi che nella contea di Somoge, nel XVI secolo, 42 persone furono attaccate dagli orsi? Il leader Gergely Kovac ha annunciato che il partito sarà presente alle elezioni politiche del 2018. Secondo i sondaggi siamo al 2%, ma noi crediamo che non sia vero. Pensiamo di essere al 95%, pare che vinceremo le elezioni. Quello che abbiamo promesso è la costruzione di una montagna in Ungheria o la trasformazione del lago di Balaton in mare. Abbiamo inoltre promesso la resurrezione e la birra gratis. E poi certamente abbiamo problemi con il nostro sistema educativo, sanitario e siamo famosi per la corruzione qui in Ungheria. E poi l'emigrazione, che è un problema ben più serio dell'immigrazione. Tuttavia, sostiene lo storico italo-ungherese Stefano Bottoni, il cane a due code non prenderà il volo. Nel momento stesso, sembra almeno a me, in cui ha annunciato che il cane a due code smette di essere un progetto satirico e diventa un progetto politico, io temo che una buona parte di quei voti, o di quei voti virtuali, o di quei moti di simpatia, possa trasformarsi nella constatazione, ah, ma siete un partito come gli altri. Rimane l'eccezionale fenomeno di comunicazione politica, che a detta di Bottoni non ha danneggiato solo Orban. Un modo economico, intelligente e molto efficace di fare comunicazione politica, esattamente, e ha con questo ridicolizzato non soltanto la campagna del partito di governo, di Fidesz, ma ha ridicolizzato anche la sinistra, i cui messaggi sul referendum erano deboli, contradditori e spesso non riflettevano neanche l'opinione dei loro elettori. Opposizione, che alla sinistra del governo appare sempre più frammentata. Con la crisi economica e politica del partito socialista, rimangono tante piccole liste che potrebbero battere Orban solo in un'improbabile coalizione con Jobbik, il partito di estrema destra, che da solo raccoglie stabilmente il 20% dei consensi e rappresenta di fatto la minaccia più concreta al primo ministro, anche grazie a una ripulitura della sua immagine, via i simboli nostalgici, via i violenti, marginalizzazione dell'ala più estrema, per un partito che vuole essere sempre meno di lotta e sempre più di governo. A Ljubljana si è tenuto l'Italian Business Forum, un'occasione in cui agli imprenditori e amministratori pubblici sloveni, sono state presentate alcune eccellenze italiane. Si è discusso delle innovazioni introdotte con l'economia digitale e del ruolo delle cooperative sociali, sia per l'economia, sia per il funzionamento di uno stato sociale moderno. Questo formaggio l'ho fatto oggi, con il latte che i pastori mi hanno portato stamattina. Le forme resteranno qui fino a domani, poi le metterò in salamoia, nel bunker. Una specie di feta è un caciocavallo che chiamano Visè. Altim Mescini, 44 anni, produce i suoi formaggi in un bunker, non una delle case matte fatte costruire da Enverogia, ne restano centinaia in Albania, ma un bunker realizzato dagli italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Una rarità, tanto più perché, secondo il proprietario, è l'unico bunker caseificio al mondo. Per stagionare i formaggi il bunker è perfetto. Le pareti della struttura sono spesse, non arrivano i raggi del sole. Qui dentro si sta sempre freschi. Distretto di Permet, sud-est dell'Albania, 40.000 abitanti, tre catene montuose, la più alta sfiora ai 2.500 metri, e una vallata mozzafiato che prende il nome dal suo fiume, il fiume Viosa, ispirandosi alle tante battaglie che si sono combattute sulle sue sponde, lo scrittore albanese più famoso, Ismail Kadaré, ha scritto il suo capolavoro, il generale dell'armata morta. 22 tonnellate di formaggio l'anno, Altim Mescini, e uno degli iscritti al consorzio Propermet. Propermet è un embrione di un marchio di origine geografica, come potete vedere da questo logo, ed è l'idea nata da alcuni membri di questo consorzio, così lo chiamiamo noi, che in realtà si chiama Sheberor Soceria Baspunim del Ziprok, ed è una sorta di proloco, o comunque di organizzazione, di promozione del territorio. L'idea del consorzio, promosso dalla ONLUS italiana Cesvic Operazione e Sviluppo, nel 2015 ha vinto il premio Innovazione in Albania. Diciamo che è sperimentale, è tra i primi in Albania, e sicuramente come forma è stata la prima in assoluto nel 2012. Il consorzio vanta già decine di associati, produttori di formaggi, albergatori, ristoratori e guide turistiche, le eccellenze, enogastronomia, cultura e territorio. Il distretto di Propermet è una specie di trentino, bellissimo ma ancora poco conosciuto, circa 10.000 visitatori durante l'anno, un territorio che è la culla della cultura del paese delle Aquile. Qui sono nati i fratelli Frasceri, figure centrali nella letteratura albanese, e l'artista Odisee Pascali, che viene considerato il fondatore della scultura in Albania, qui ci troviamo davanti al monumento dedicato ai caduti nella Seconda Guerra Mondiale, realizzato dal grande scultore Odisee Pascali. Odisee Pascali era di Permet, la città più importante del distretto, il suo simbolo, quello che i suoi abitanti chiamano il sasso. Sulla sua sommità, anticamente, migliaia di anni fa, c'era una torre d'avvistamento per scorgere eventuali nemici, o comunque per controllare il passaggio delle carovane. Bellezze da vedere, prelibatezze da gustare, come il piatto tipico di Permet, la zuppa con polpette di carne di vitello e riso, con l'aggiunta del bianco d'uovo, di pepe, prezzemolo, latte e farina. E per chi esagera a tavola, la possibilità di smaltire, facendo esclusione in montagna o rafting sulle acque agitate del fiume Vios. Grazie alla vostra prestigiosa televisione. In qualità di sindaco invito tutti gli italiani all'ascolto e a visitare la nostra città. Vi aspettiamo. Come recita lo slogan all'ingresso di Permet, a parte il mare, abbiamo tutto il resto. Tre paracadutisti sportivi, due uomini e una ragazza hanno festeggiato San Valentino in un modo particolare, come frecce di cupido lanciate a centrare il cuore. Il cuore è il piccolo isolotto di Galeschniak nel canale di Pashman, vicino Zara. Galeschniak è una delle 1246 isole e scogli della costa croata ed è famosa anche con il nome di Isola dell'Amore. Moltissime coppie, soprattutto tedesche, austriache e americane, scelgono proprio questo scoglio a forma di cuore per sposarsi. La storia è quella del filmato degli scorpioni, il video che mostra paramilitari serbi uccidere a sangue freddo alcuni ragazzi e musulmani di Srebrenica, prigionieri inermi, nei giorni seguenti la caduta dell'enclave. La sua messa in onda in prima serata sulla televisione serba, il 2 giugno del 2005, all'epoca della presidenza Tadic, aveva cancellato in un colpo solo dieci anni di negazionismo e menzogne. Ora quella storia è diventata un film, diretto dall'attrice serba Mirjana Karanovic, per la prima volta dietro la macchina da presa. Quando ho visto per la prima volta il filmato delle uccisioni, dei crimini commessi da quell'unità paramilitare, gli scorpioni, ho cominciato a pensare a come potevano sentirsi la moglie, la sorella, la figlia o la madre dell'uomo che nel video vediamo uccidere delle persone. La protagonista è la moglie di uno degli assassini che conduce una vita monotona, ma nel complesso felice, nella provincia serba, fino a quando il maledetto video fa capolino da un cassetto e un'intera nazione scopre di dover fare i conti con il passato. La gente normale, quelli che avevano la possibilità di informarsi solo attraverso i canali della TV di Stato, non sapeva quello che era successo. Se ne avevano sentito parlare, pensavano che fossero solo propaganda e bugie. È per questo che la messa in onda di quel video in televisione ha rappresentato uno shock enorme in Serbia. La pubblicazione del video era stata seguita da una prima timida stagione di aperture, richieste di scuse e strette di mano. Oggi però il processo di confronto con il passato sembra nuovamente essersi interrotto. Non sono sicura che in questi vent'anni sia veramente cambiato qualcosa nelle relazioni tra le persone, tra i diversi gruppi nazionali. Penso che oggi il nazionalismo sia più vivo che mai. La frustrazione che c'è per la situazione economica, per i problemi quotidiani, porta le persone ad aderire in modo ancora più deciso a queste idee, ad incolpare gli altri per la propria sfortuna, a considerare terribile tutto quello che abbiamo subito e giusto tutto quello che abbiamo commesso. La forza di questo film sta proprio nella sua capacità di mostrare empatia. Molti hanno parlato dei crimini subiti dalla propria parte, ma questo film parla dei crimini commessi dalla propria parte. una posizione non facile, neppure oggi. Per quanto riguarda me, nel mio paese mi adorano o mi odiano. Credo di essermelo guadagnato e in un certo senso ne sono orgogliosa. Ma il cinema della regione può svolgere un ruolo nell'elaborazione del passato? Credo che l'arte abbia un'influenza di lungo periodo. Aiuta le persone ad esprimere il proprio animo, le proprie emozioni. È un processo importante perché in questo modo altri che sono là fuori in silenzio possono almeno sapere che non sono soli. È quello che è accaduto a un anonimo cittadino di Sarajevo che è andato a congratularsi con la Karanovic dopo la presentazione del suo film nella capitale bosniaca. Allora c'è ancora speranza, le ha detto. La speranza per il futuro nei Balcani è legata alla capacità di riconoscere il dolore degli altri. Dopo il trionfo al Trieste Film Festival, primo premio come miglior lungometraggio in concorso, Dobra Gena verrà riproposta in Italia alla presenza dell'autrice giovedì 23 a Firenze al Balkan Florence Express. Questo brano fa parte di una suite che ho composto un paio di anni fa e si chiama Aria di None. È un brano che è nato dopo un sogno realmente accaduto ed è un sogno appunto dove c'era questa questione della relatività. Anche il respiro è relativo, perciò questo brano è una rinascita dell'anima forse. In questo cd ci sarà anche un brano di Piero Purini. Et Toploch è un nome che ci è stato dato da un nostro amico che all'epoca ai nostri primordi aveva il locale dove siamo nati. Siccome noi facevamo questo misto di musica etnica da tutto il mondo, musica jugoslava, balcanica, poi c'erano tanghi, musica klezmer, jazz, blues, eccetera, non sapevamo come definire la nostra musica e lui ha detto che è un ploc, cioè una pozzanghera in dialetto triestino. Non c'è una data precisa di formazione. In realtà abbiamo cominciato come due due che poi si sono uniti. Comunque credo che fosse attorno al 2001. Non è un gruppo formato da tre colleghi, è un gruppo che nasce da tre amicizie. Non usiamo le parole finte, ma siamo diretti come nel suonare. Le cose si compensano viaggiando insieme. Diciamo che è come essere sposati. Certe volte le cose nascono da sole, altre volte bisogna discuterne se non baruffare. Questo CD abbiamo quasi neanche una voglia, un bisogno di ricercare l'origine del suono di questi tre strumenti acustici, con ormai, io potrei dire, quel quarto componente del gruppo, che è il nostro fonico Borucelic. Come eseguiamo i brani è diverso da una volta, perché era acustico, c'era comunicazione più fisica, più così, adesso stiamo sperimentando. Nasce l'idea da diversi momenti, nel senso non è un prodotto, come dire, commerciale. Quanti brani troveremo nel nuovo album? Ufficialmente sette, ma se qualcuno avrà pazienza di ascoltare il CD, fino, fino, fino in fondo ne troverà otto. E si chiamerà? A tese scritto per quella X.